Ok, ora avviciniamo bene il sedere al muro, il nostro obiettivo è allungare tutta la catena posteriore in modo globale, ok? Prendiamo attenzione dai quadricipidi, mettiamo le mani di volta verso l'alto appoggiate per terra in modo tale che tu puoi spingere, ok? Spingi contro il muro, la testa contro il muro, verso l'alto, ok? E ora cominci a respirare, bravissimo, riempi qua, sette, butta fuori, ok? Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.